Ve lo dico sempre, uniamo due cose, il divertimento all'opera di me, sono pienamente felice di questa cosa perché il calcio per me è una passione fin da quando ero piccolino e quindi se lo unisco appunto a un'azione buona, come poi il pubblico ci ha aiutato ad ottenere, sono doppiamente contento insomma. Tu giochi abitualmente? Ma ora ultimamente non ho più giocato perché fortunatamente ho lavorato abbastanza, però mi capita di allenarmi con la nazionale di attori, quindi il mercoledì e il sabato ci ritroviamo e Giacomino Losia ci allena. Noi vediamo che stai indossando la maglia della Juventus, fa fede alla tua fede calcistica? No io sono Pisano e Pisano rimango, mi hanno detto quali erano le squadre, mi hanno detto scegli, ho preso la Juventus e ho dato che mio fratello Stefano è Juventino.